questo è un altro punto ultimo punto mettiamo vicino agli altri a questo punto si lo metto qua ragazzi è chiaro che da qui poi in poi bordello bordello ciao aspetta no scusami vuoi tornare direttamente la tua stanza potrò portarti lì no io ho tutte le gemme grazie caro vado ciao no going back no è andata e non si è portata la cazzo di no abbiamo lasciato l'accenso qui cazzo quindi è andata chissà cosa sceglierà lo vedrò alla fine non vedo l'ora di vedere alla fine lo vedo alla fine non ho idea salve buongiorno com'è the other world ma questo sembra un mondo uscito fuori da un libro di fiabe meglio andare avanti ma perché ci sono altre vie madonna mia che fastidio per il rumore del passettino ah eccoci scusami a che cazzo serviva mamma guarda quella è maria alla fine sei arrivata aia quindi sei veramente tu mamma e la caccia via mamma non saresti dovuta venire no 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 perché hai fatto una cosa del genere non l'hai visto venendo qui aia tutte le atrocità che ha commesso quest'uomo non voglio più non voglio più vedere altre sue vittime altre nuove sue vittime non ti senti allo stesso modo aia tu menti se c'era qualcuno che chiaramente capiva papà quella eri tu mamma e maria che non ti piace vero tu amavi papà quindi non ti piaceva che loro stessero così tanto assieme fossero così tranquilli assieme che ci andassero così d'accordo fra di loro non so come ti senti anch'io amo papà quindi anch'io mi sentivo così come anche io sentivo che mi era stato tolto via mi era stato portato via la maria era così preoccupata non riuscivo a respirare e quella ride che sollievo tu sei davvero nostra figlia quindi anche tu lo senti lo provi è proprio come dici non potevo non riuscivo a sopportare di vedere tuo padre e maria insieme quindi ami ancora papà no perché lo stai facendo soffrire non vole non è che non lo volessi far soffrire però non volevo condividerlo con nessuno quindi ora me lo porto via non puoi non avevi promesso qualsiasi cosa successo qualsiasi cosa succeda avremmo sempre supportato papà non ti preoccupare aia io lo supporterò per sempre nell'altro mondo e io senza papà io sono sola io non lo voglio voglio stare con papà e con te mamma portami con voi per favore non lo posso fare voglio che tu viva felice ma io non posso io sono felice quando sono con te papà non lasciarmi da sola è incazzata sti cazzi sei incazzata nessuno interferirà mamma che cazzo ora tesoro lasciacendare ma maria sta ancora là padre aia madonna mi stanno venendo delle brutte battutine da dire in questo momento aia o gli sei visto un occhio padre l'ha recuperato padre aia perché non ascolti tua madre non portarlo lontano via da me vabbè 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 mamma nessuno lo avrà mamma fermati lui è solo mio che cos'è caro che cos'è questa roba è l'acqua magica mo si ricorda dell'acqua magica questa posso parlare papà ma cosa succederà a mamma se se la uso vabbè lui c'era tipo a ma se se il tuo amore la raggiunge eccetera eccetera ma che cosa dovrei fare eccoci grande scelta quasi fa il doppio finale non vi preoccupate faccio vediamo entrambi anche che io non mi ricordo nessuno di due però è una scelta io non so quale scegliere per primo scusa mi abbiamo fatto tutto il gioco per salvare il padre salviamo il padre siamo un po coerenti e salviamo il padre io salverò papà minchia gliela lancia addosso e guarda punto vi ho cambiato aia cacchio fai che stai facendo mi spiace mamma fermati aia sto scomparendo il mio corpo scompare mamma aia aspetta non andare sei tu che le hai lanciato l'acqua addosso che bella che si immagine ciao niente la madre è andata abbiamo salvato papà fine dell'incanto perché siamo qui siamo nella sostanza del bambole dove sono papà dove magari oddio santo quelle quattro bambole non c'erano prima ma questa non è la stanza delle bambole una stanza diversa papà aia padre aia mi spiace aia ti ho fatto preoccupare così tanto papà mamma si lo so si deve essere sentita sola visiteremo la sua tomba domani per risollevarle lo spirito penso sempre male salve signora aia non volevo che tu conoscessi la verità ma con l'ultimo dei miei poteri con il l'ultima briciola del mio potere ci fa fare l'ultimo flashback credo del gioco che cosa un ottimo esemplare mi occuperò io della del di togliere di mezzo il resto dottore può aspettare via di maria o dottore e questa è la scena che abbiamo già visto e quindi dottore vabbè la signora lo sa che ne facciamo cose quindi quindi ha qualche peso e credo che non si fidi di me questo è un problema però la ragazza avrà presto 11 anni è un'età un po' problematica sicuramente si gentile con lei e si cerca di non farle mai che nulla le succede insomma siccome lei è la mia più preziosa bambola di tutte ah è io una bambola papà qualche cosa è andato storto mi sa che cos'era? eh ma questo è ora? eh c'è la madre incazzatissima eh sì vabbè aia c'è ma per quanto tempo ancora hai intenzione di stare in sto scantinato? non mi dire che sta di nuovo con quella ragazza dottore aia è diventata effettivamente una giovane fanciulla? vabbè dobbiamo aspettare un altro po' penso un altro po' finché è pronta voglio trasformarla nella più bella delle bambole che posso voglio trasformarla al meglio di quel che posso nella bambola più bella di tutte che cosa? sarà l'opera magista magister come cacchio si dice di tutte le bambole che ho fatto finora bambole che cacchio? trasformarla in una bambola? mamma che c'è? va bene mi occuperò di pulire i materiali non necessari non lo permetterò non trasformerai mai la nostra preziosa figlia in uno dei tuoi materiali di esperimento stronzo allora tu che significa tutto questo? hai intenzione di fare esperimenti su di lei? hai origliato a cosa stavi pensando? lei è il nostro unico tesoro esatto è la nostra preziosa figlia voglio trasformarla voglio che lo sia per sempre eppure un giorno lei sarà sporcata non posso sopportare di pensarci nemmeno quindi la trasformo in una bambola non ci posso credere non ti permetterò di farlo me ne vado cosa? se vuoi una bambola così tanto allora fai una replica aspetta hai intenzione di portarla via io non lo posso permettere lasciami non ti permetterò di fare quello non ti permetterò di fare quello che vuoi con lei mamma ah stronzo ma no e no pensavo che l'avesse già fatto cosa? quindi lì dove abbiamo trovato Maria che si era ferita abbiamo trovato cioè lei adesso vede la madre l'ha ammazzata lui ah beh milady infatti a Maria è sconvolta milady sopravviva stia con noi dottore perché l'ha fatto? doveva essere fatto per il futuro di Aya il futuro che non è un futuro cioè il futuro che è un futuro non proprio futuro ma milady non dire nulla ad Aya ma lei era già abbastanza debole e dille che è morta per malore ma mentire la signorina io io non posso ti stai rifiutando il mio ordine no non era quello che intendevo dire Maria capo qualsiasi cosa succeda io sono fedele a lei dottore ed è per questo che tu sei la mia assistente ah dottore ora che ne facciamo del corpo? Aya ovviamente non lo doveva vedere mamma è un sogno sto avendo un incubo questo non è un sogno è la realtà mamma mi dispiace Aya tua madre ancora ama tuo padre anche adesso cioè io amo ancora tuo padre anche adesso e non l'ho sono riuscita a fare fuori ma avrei dovuto non dire così scappa corri è perché scorri vabbè scappa fuggi via da lui oddio Aya Aya che succede? perché sembri così spaventata di tuo padre? non guardi ma dopo un anno sta ancora così bene il corpo della madre salve signora non è possibile mamma Aya quindi quello che ho visto era vero? papà lui l'hai uccisa è la prima volta che sentiamo un rumore un fiato da quest'uomo e c'è lui che ride bene Aya non credi che tua madre sia bellissima no era più bella da viva però vabbè immagino che tu non possa ancora accettarlo ma lo so che hai bisogno di lo farai nel tempo volevo aspettare un altro po' padre ma veramente mi trasformerei in una bambola non essere triste Aya trasformandoti una bambola sarai bellissima la tua bellezza la durerà per sempre guarda questi bambini sono bellissimi no? preservati come quando erano in vita questi sono i frutti della ricerca della famiglia Travis nessuno si sta muovendo succederà anche a me eh sì perché si dovrebbero muovere guardali dalla testa ai piedi e puoi solo immaginare che siano bambole no? ma tutto quanto è stato raccolto da un grande gruppo di persone è stato raccolto dalle persone praticamente ha fatto un bel art attack di persone lo trovo alquanto affascinante qui ho provato anche a combinare un uomo infatti mi stavo chiedendo se quella fosse una maschera appoggiata sulla testa invece no è proprio la testa del cane con un umano è incredibile no? che ne pensi? cosa ti piacerebbe essere aia? ah non posso immaginare però di fare tanti cambiamenti per preservare e poi preservare anche il tuo essere così lovely padre papà smettila eh ovviamente ti posso vestire con tutti i vestiti più belli dimmi quello che desideri indossare no aia madonna parla pure dove stai andando? vieni vieni da tuo padre no guardi non mi dire che mi odi mi dispiace papà ma io io non voglio essere una bambola oddio oddio devo essere pronta ok una bambola ok salve proceed saving si ho salvato non ti preoccupi come non si apre che cazzo grazie grazie caro apri la porta aia no il manichino ha bloccato la porta si grazie no guardi noi dobbiamo andare apri cazzo che non si apre beh oh cazzo ok oh no il manichino sta per fare una butta fine vero si sta per fare una butta fine cazzo ok aia non si corre via si lo vedo signore ok corri ah adesso ti apri stronzo e ma lei non sa correre vai vai salta oddio 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 porca eh ho premuto un tasto diverso ma che cazzo che cazzo succede eh eh si sta muovendo da sola raga si sta muovendo da sola madonna tanto mano alla tastiera perché ho la stessa oh no oddio oddio ci ha trovati no brava brava aia ok 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 oddio 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 la pregola smette di rincorrermi ecco lo sapevo lo sapevo cazzo stava anche ridendo lo stronzo allora vediamo lui si muove così e io ok ok da minicenzo ciao come auto power è servita solo per questa maria ma questo è dov'è il dottore signorina maria non farla scappare aspetta madonna marie madonna marie madonna marie che cazzo ho visto qualcosa muoversi allora dobbiamo nasconderci dobbiamo nasconderci dobbiamo nasconderci cazzo ok non c'è un corpo qua ma forse ho dimenticato che cosa faccio posso nascondermi sì qui posso nascondermi qui vai nasconditi signorina signorina dove potrebbe essere dov'è signorina dov'è andata Aya mi dispiace ma l'ho persa di vista tu cosa mi dispiace sono sicura che non sia andata molto lontano cerchiamola da un'altra parte ha detto garbage o sono io pezzo di merda quindi è andato oltre buttando giù la barricata direi Maria Maria che cosa faccio ho così tanto sangue c'è qualcosa che posso usare c'è qualcosa qui sì hai trovato le gazze perfetto vai usa le gazze su Maria poverina anche se Maria comunque la aiutava lo stronzo però questo dovrebbe bloccare il sangue signorina grazie per essersi di essersi presa a cura di me ah va bene non ti preoccupare devo essere terribile ai suoi occhi per favore io è vero non so come ti senti signorina ti ho portato via qualcuno che amavi è ovvio che mi odi però è molto gentile da parte tua a mostrare della compassione Maria Maria riesci a stare in piedi signorina usciamo di qui insieme ma ma signorina io sono come te Maria pensavo di non poter vivere senza papà ma nel modo in cui lui pensa a noi io non voglio essere una bambola una maschera e quindi io non posso più stare con lui ma noi io e te non possiamo vivere da sole quindi viviamo da sole insieme andiamo insieme anche se papà non c'è più lo so che io e te possiamo farcela signorina l'accompagnerò signorina eh ma non si regge tantissimo Maria mi dispiace signorina posso poggiarmi alla sua spalla certo dammi del tuo anche eh e mo dovremmo andare di qua eh lo so ok padre sta ancora cercando andiamoci uno di qua qua continuano a esserci rumori su rumori qua non possiamo fare nulla ah di qua si può andare bene bene padre mistress signorina si muova Maria non si preoccupi di me scappi no stiamo andando via insieme io non posso andare per avanti di così deve scappare da sola signorina ma ma da sola io va tutto bene non la lascerò da sola la seguirò dopo mi creda per favore Maria e scappa via eh ma pastronzo ma la gente che il calpesta in questo gioco non la sopporto chiudi la porta brava cazzo 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 eh sì la per signorino no stronzo e dobbiamo scappare di nuovo sì mi sa di sì la porta è aperta vero Aya no la porta non è aperta ok brava cazzo dove è finito il cadavere della salve diventa una di noi no guardi non ci tengo oh cazzo basta giocare la chiapparella Aya devi stare ferma eh lasciami io non volevo farti del male Aya è un peccato no basta papà ma non potevo coprire la tua gamba con una gonna così dovrebbe andare bene ma io non volevo volevo stare con te per sempre ti amo papà ti prego prego fermati Aya non ti preoccupare papà e Aya saranno per sempre insieme quindi muori ti amo Aya Aya Grazie a tutti.